Kenneth! Kenneth! Che gancio formidabile a tuo figlio! Ma non doveva picchiare suo padre? No, però lui se l'è cercata. Se lo meritava. Mi dispiace, scusa, siamo una famiglia di matti. Oh, non scusarti, non è il caso. Non è il caso. È solo che... È che l'anno passato è stato veramente molto strano. Sono successe un sacco di cose e non tutte particolarmente belle. Mi dispiace. Sinceramente mi dispiace molto. La tua malattia? Ne vogliamo parlare? No. No, non vuoi? No, va bene. Ok. Ma voglio dire, adesso stai bene? Sei gu... Perché hai gettato il telefono? Perché... Non lo so. Ma adesso... Sei guarita? Eh? Non lo so. Ho finito la terapia. Non so se sono guarita ancora. Poi mi stanno capitando tante cose che... Perché sei così gentile con me? Perché sei meravigliosa. No, non è vero. E sei bellissima. No, non sono bellissima proprio, no. Una volta forse... Ma sì, lo sei ancora. Lo sei? Non hai idea di quanto sei bella e dolce. Veramente, sei bellissima.